voto segreto voto segreto ma all'unanimità domenica venerdì per il 3 marzo 3 marzo facciamo giugno no luglio vaffanculo a muninno cazzo ancora la forcina bloccata ecco cosa c'era che non andava vaffanculo la forcina l'hai sbloccata te? io c'evo la forcina bloccata ancora le piante no ma ho capito che c'è la ferrovia che si percorre non mi viene il nome ecco 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 no guardate voi perché no e secondo me ha poco segnale mai vista una roba così io dire allora se lì c'è il fiume allora l'unica cosa di cui sono sicuro che bisogna scendere però però riguardo il disegno c'è qualcosa che ma c'era qualche altro incrocio che non abbiamo visto no c'è allora adesso mi ha messo in traccia adesso si ha avuto un errore temporaneo adesso si è riportato giusto noi dobbiamo seguire il blu e abbiamo fatto il rosso vedi c'è sembra sembra che ci indicava che eravamo la poi adesso si è corretto è il blu il nostro quindi dobbiamo andare giù allora su di qua e facciamo lo scendere giovanni poi diciamo che è di là aspetta aspetta che arriva eh eh di qua andiamo dai vado avanti io aspetta giovanni che ne ho sudi lì aspetta giovanni che è niente di lì aspetta giovanni che ne hai messo di lì aspetta giovanni che basta di eh se no non potevi fare manovra no dove facevi manovra se no ah cazzo rischiavo di toccare qui passa 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 a spostare i sassi ah si? a spostare i sassi davanti alla ruota ah bene a spostare i sassi 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 ti sei emozionato? quella madonna facevamo prima venire a Ticino è il quadro più lungo che abbia mai fatto è il quadro più lungo è il quadro più lungo è una trincea da qualche parte? è una trincea da qualche parte di qua e il cicatello? giù dal discesone allora allora